Dopo 30 anni si avviano le procedure per mettere ordine nell'area del mercato delle venerdì di Agrigento. Si andrà a regolare un mercato non conforme al regolamento comunale e sono diverse le cose che non vanno nell'attuale mercato come ci spiega il comandante dei vigili urbani di Agrigento. Potremmo elencare una serie di elementi. Sicurezza innanzitutto per quanto attiene alla prescrizione delle distanze regolamentari tra le file, con le connesse implicazioni per quanto attiene ai profili della pubblica incolumità. Il problema per quanto riguarda la stessa assegnazione dei posteggi per le diverse categorie di tipologia B o di tipologia C. Commistione di presenze tra privato e pubblico non definito, non più convenzionato. E quindi questi elementi rendevano il mercato veramente una giuncla dove era difficile anche svolgere un'azione di vigilanza e di polizia amministrativa. Quindi rimettere ordine e affermazione della legalità, afferma il sindaco di Agrigento in conferenza stampa convocata questa mattina presso il suo ufficio. E per questo domani sarà pubblicato un bando con scadenza a 20 giorni per destinare i 152 posti disponibili nella nuova area individuata che saranno suddivisi per due terzi alle attività non alimentari e un terzo alle attività alimentari. L'area individuata è temporanea dal 22 febbraio e presumibilmente fino al 5 aprile e comunque fino all'esecutività del regolamento che sarà adottato dal Consiglio Comunale. È un segnale importante, è un segnale di ripristino, di trasparenza, di legalità, su una vicenda sulla quale da tempo era stato sollevate le questioni, perché l'area sulla quale insisteva il mercato era in parte demaniale e in parte privata. Abbiamo lavorato per dare un segnale significativo e importante, quindi realizzando in area esclusivamente pubblica il nuovo mercato del venerdì. In questo caso approfittiamo della sagra del mandorlo in fiore per andare lungo questo periodo, quindi alla sospensione per due venerdì del mercato, alla pubblicazione del bando che avverrà già da domani e quindi tutti potranno partecipare a questo bando e potranno avere la possibilità quindi sull'assegnazione dei posti in modo tale da dare certezza ai commercianti e certezza all'economia cittadina. Perché si è atteso tanto? Perché noi avevamo fatto una richiesta anche lì al demanio per avere noi l'area, poi vi erano ragioni e problemi di sicurezza, vi era la volontà soprattutto di non recare ulteriori danni all'economia cittadina e quindi abbiamo fatto un'azione di coordinamento che ha visto che il periodo migliore fosse questo in cui ripristinare e soprattutto riportare su un piano assolutamente di trasparenza una situazione che nel tempo si era attardata. Un lavoro portato avanti in sinergia tra i diversi uffici del comune di Agrigento. Evidentemente le nostre segnalazioni erano supportate da elementi di fondatezza. Naturalmente bisogna dare atto che l'ordinanza sindacale tende a riportare ordine, trasparenza e direi anche legalità. Certamente a maggior tutela degli operatori commerciali perché le regole di commerciali, di legge e regolamentari altro non sono che un baluardo che consentono una trasparenza nell'assegnazione dei posteggi e soprattutto anche si riordina il mercato sul piano della sicurezza per quelli che sono i momenti di fruibilità da parte della cittadinanza. Soddisfatto il consigliere comunale Giuseppe Di Rosa che aveva sollevato la questione nel dicembre del 2011. Grazie alla sinergia tra gli uffici, l'assessore, il sindaco, il comandante, il dirigente del servizio e grazie alla mia sollecitazione si è riusciti oggi a Agrigento a, sulla carta oggi, ma da oggi inizia l'iter per creare un'area mercato, una nuova area mercato che insisterà sempre nella zona del campo sportivo che sarà sicuramente quella idonea con tutti i requisiti di legge, iniziare da quelli igienici a finire da quelli di sicurezza. E intanto sempre Di Rosa in una conferenza stampa ha parlato anche dei servizi pubblici trasporti gestiti dalla ditta tua. Da altre mie segnalazioni il servizio tua, oggi l'assessore riconvoca la ditta per ancora discutere di paline orarie, assolutamente. L'assessore deve convocare questa gente, deve immediatamente disporre l'ufficio di intimare agli stessi inviando copia alla Regione di o mantengono quello che è il contratto doneri o assolutamente lì potremo solo segnalare alla Regione per, venuti meno alcuni punti del contratto, rescindere lo stesso. Assolutamente non transigo più. Io ho dato tempo assieme alla Commissione Sesta, a questa azienda, di poter provvedere. Non ritengo che vada più dato tempo.